Una scelta che valorizzi entrambi gli ospedali. Si esprime così il governatore Fedriga entrando nel merito della decisione di spostare il punto nascita di Palmanova all'ospedale di La Tisana, andando però a potenziare la struttura della città stellata con altre specializzazioni, rendendo quello di Palmanova un super ospedale vocato alla programmazione. Il tutto per dargli una prospettiva che altrimenti sarebbe stata negativa da qui a poco tempo. Le parole di Fedriga chiariscono gli intenti della giunta dopo le polemiche nate ieri in consiglio durante una seduta piuttosto vibrante. Io sono particolarmente orgoglioso di questa scelta perché riusciamo ad aprire il punto nascita alla Tisana e al contempo invece a Palmanova invece del punto nascita mettiamo delle specializzazioni importantissime di programmazione, penso all'ottopedia, penso all'oculistica e a molte altre che abbiamo inserito che potrà far diventare di Palmanova un super ospedale vocato alla programmazione. In merito alla discussione anche PD e Movimento 5 Stelle hanno partecipato attivamente. Per il centro-sinistra si tratta di propaganda. Purtroppo l'idea è che sia soltanto propaganda, intanto perché le riforme non si fanno così, non si fanno con un emendamento dentro una legge omnibus che non c'entra niente. L'assessore Riccardi venga, ci proponga una riforma della sanità e poi ne discutiamo. Tanto è vero che domani avremo probabilmente decine, centinaia di persone che dal Palmanova e dalle zone limitrofe verranno a protestare. bisogna ascoltare i territori e poi decidere. Questo è un errore così come un errore che si sta facendo a Gemona dove mi pare si stia prendendo in giro le persone, forse magari perché l'anno prossimo lì si vota. Finalmente la politica ha preso una decisione. La giunta Seracchiani aveva detto ancora dicembre 2014 che doveva rimanere solamente un punto nascita e una pediatria tra la Tisana e Palmanova ma non si era mai assunta la responsabilità di una scelta. Almeno la giunta del centro-est ha avuto il coraggio di scegliere. Il Movimento 5 Stelle si è da un lato apprezza la volontà di questa giunta di fare una scelta riguardo i punti nascita, dall'altro la critica riguardo l'ospedale di Gemona. Io credo che sia una presa in giro rispetto a quelle che sono state le promesse della campagna elettorale. In realtà si conferma la chiusura dell'ospedale per acuti e si attribuisce una funzione di riabilitazione e dall'altra parte si dice che il punto di primo intervento avrà un'osservazione. Purtroppo la seconda parte della riforma del centro-destra inizia in una legge omnibus con una visione singola e non una visione complessiva che c'era stata promessa. Apprezzato in qualche modo il mio intervento.